Ciao a tutti, nel video di oggi vi faccio vedere come realizzare questi graziosi bracciali con le perle Swarovski pastel e le perline cieche Wavelet. I materiali che ci occorrono per poterlo realizzare sono 7 confezioni di perle Swarovski 12 mm e una confezione di perline cieche Wavelet. Ci servirà inoltre del filo elastico Stretch Magic da 0,5 mm e un ago. Vi ricordiamo che tutti i prodotti per poter realizzare questi bracciali sono sul nostro sito www.perlinebisou.com Dunque iniziamo infilando 13 perle Swarovski alternate alle perline Wavelet. Grazie a tutti. 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 Una volta infilate tutte le perline, chiudiamo il cerchio con un doppio nodo, triplo nodo. Grazie a tutti. Tagliamo e il nostro braccialetto nella versione pastel green è pronto. Vi ricordiamo che tutti i prodotti per realizzare questi bracciali sono sul nostro sito www.perlinebijou.com. Per maggiori informazioni contattateci telefonicamente. Grazie e alla prossima. Ciao.